buonasera buonasera giusto controllare non aver rotto niente non rotto niente mi sentite pure quindi già 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 meglio del solito buonasera just una sera brusini buonasera moragno un'altra sessione di alan wake sì assolutamente sì anche se prima di switchare all'amico alan io avevo un paio di cassettine della setta nei paraggi mi pare che avevano lasciato l'altra volta quindi li farei un attimo buonasera anche a bravo giovanni buonasera giusto ricordi sì sì poi poi ci siamo siamo vivi pare di sì non mi chiedete che è successo però non ne ho la mia idea si è frizzato l'altro bs sperando che non rifaccia di nuovo la stessa cosa non è successo letteralmente niente quindi non neanche vi siete persi cose stavo andando alla ricerca delle casse ce ne stavano acqua quindi come si è impallato l'obs a monte anche se non lo sto strimando da quello quindi bo allora dove ci fa se la stessa 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 cassa questa cassa sta qua non è qua però è più e più indietro con un'altra zona c'è un altro pezzo di stavano stavamo scarsi e vediamo se ci abbiamo qualche bambolina lasciata in giro come al solito qui dall'accampamento qua mi sa no carina sta scena con tutti questi giocattoli e quindi mi stai dicendo che dovrei averci già tutte le bamboline del caso io qua che dice la poesia la fila strock madre posso uscire posso correre giocare io ti dico figlia mia esci pure a giocare ma la luce del giorno e dagli alberi non ti allontanare mai vicino al lago figlia mia e possa tu mai annegare quindi tipo la bambina non ti allontanare non ti allontanare dagli alberi non devi stare vicino al lago e possa tu mai annegare quindi tipo la bambina qua bambino a sto punto che sarà child in inglese che neutro e mamma qua sempre abbastanza semplici dove stanno le mie impronte di morchia da seguire volta capito più o meno il senso della cosa ripieghiamo le bambole ok qua forse pure qua poi di qua poi qua no sì eccoci qua ancora no direi se abbiamo seguito i giocattoli più che le macchie di di morchia qua o forse no adesso non vedo più una mazza guardate qui c'era una macchia nera no ma questo coso qui sì e da qua dove dovrei andare secondo lui di qua invece di qua no però ma c'è gente c'è un lupo c'è un lupo mi sa no cazzo stai tutti fortissimi sti lupio da qua devi venire e ti posso mancare lo stesso vado sto stagacchio di pistola eh figlio mio hai venti colpi eccolo qua eh c'hai ragione pure tu che fa questo aggiunge una carica alla torcia ma è mica male questo però in tutto ciò questa non era la cassa della della setta buonasera ciare grazie per l'abbonamento ho letto adesso c'è adesso due minuti fa che c'è la notifica di di 40 minuti fa tutti i soldi che verranno investiti in or in visual novel con waifu quindi ok questa è una di quelle di simon lì che sono un po' a me vabbè che è sta roba un inventario pieno che cazzo dice pieno la setta del labbro vide tutto ma cosa ho preso cos'è quella questi sono colpi per il fucile questo fucile sì immagino di sì due quante colpi ci abbiamo sì e vado a posare un po' di roba e torno subito è l'allegro gioco dell'inventario un po' non vuoi come lo è stato Resident Evil però dai che gli vuoi dire ma possiamo scendere da qua la saga no eh ti sciupi il mazzillo anche da qua e dai sai se lo fa il giro per forza e poi devo risalire qui c'è il lupo morto che giro del cacchio potevo fare mezzo metro potevo fare scendendo da lì allora questi sono troppi per cercare di tutti abbiamo cominciato a usare un po' di roba però con saga abbiamo un inventario un attimino ipertrofico dobbiamo cominciare a spendere un po' un po' di cure un po' di cose perché se no veramente non pure questo visto che ce ne abbiamo altri due andiamo ah questo è per tornare da Alan non ancora non ancora devi darmi qualche altro minuto il tempo di prendere un'altra cassa e poi andiamo da Alan allora questa stava di qua dammi le cure non ho salvato perché andiamo ci devo tornare di nuovo a fare spazio almeno sta sto medikit che ho preso molto poso e poi ce ne abbiamo tipo cinque no di più sette in totale beh effettivamente è come avere sette spraimetici di Resident Evil è un sacco di roba allora l'altra cassa invece eee dobbiamo andare di qua e poi a sinistra da posto more alive ancora vivo sei ah doppio lupo eh sì sono inquietantissimi come si muove è utile che ho giolate per farmi sentire in colpa siete come i i lupi di Zelda non ho solo alcuno scrupolo se mi attaccate per primi non mi sento in colpa figlio mio è cresciuto un albero in questa macchina allora questa è la cassa questa che tipo di cassa è quella con gli indizi oh che dobbiamo fare i conti ma davvero che paolo in una fabbrica ci sono duecento veicoli in totale tra biciclette e automobili ogni auto ha quattro ruote e bicicletta ne ha due nella fabbrica ci sono settecento cinquantaquattro ruote in totale quante automobili ci sono nella fabbrica che paolo devo mettermi a ragionare non c'ho voglia a fare di conto un tempo le sapevo pure risolvere queste cose automaticamente adesso devo ricordarmi qual è il poi ho duecento veicoli in totale ok ok per un totale di settecento cinquantaquattro ruote uno quattrocento facciamo un po' pane e salame se fossero cento auto sarebbero quattrocento ruote no ne avanzano trecento cinquantaquattro che è comunque divisibile per due giusto perché c'è una soluzione unica per fare sta cosa ah no quattro ruote sono le auto giusto eh sì quattrocento tre cinquantaquattro deve essere un numero a tre cifre no siamo tutti d'accordo ok va bene dobbiamo ampliarci più simboli con i rami più graffiti voglio che la gente se la faccia sotto al solo pentino di andare nel bosco spargli la voce cioè questi che sono chipster ah batterie un altro di questi che dovrei cominciare a usare e un altro vado ho riempito di nuovo tutto vi odio maledetti della setta devo andare a posare le cose facciamoci un giro che magari c'è pure un eccolo qua cos'è questo no è una cassa normale si vuota non è vuota siamo pieni come come un uovo di nuovo la rima non era voluta però apprezzatela lo stesso vabbè torniamo lì andiamo passiamo ad Alan giusto un'occhiadina vicino vicino in questa zona che magari c'è qualcosa che non ho preso senza inoltrarsi oltre tipo qua nella parte cassata qua no ok non vedo simbolini colorati che gli indichino dicevo un cestino da merende lì quindi boh ce ne andiamo di qua invece dove si va si va la parte avanti ok just e andiamo soprattutto perché cassata e cannola alla fine non è che ci sia tutta sta discriminazione tra le due sono entrambi dolci a base di ricotta ed entrambi buonissimi tra l'altro non so cosa posare questo no questo ah questo ok anzi no facciamo prima sta cosa qua finiamoci prima il suo chiudiamo prima sta roba qui così ah giusto che a me è arrivata una telefonata perché no qua da Thor ok fina stocco trovate in un campanile del bosco di bright force quindi qua e questo è fatto cassa trovate in un pick up abbandonato fuori di bright force questi sono tutti più o meno abbastanza scevi da posare questi potrebbero li poteva anche mettere in automatico che non è che sia una roba brillantissima da fare ok mi sa che a vuotere ce ne manca ancora una maledizione la storia questo ma lo sarà un'altra volta che è rimasto la setta dell'albero il mocoscala ha attaccato Wake indossando una maschera da cervo ok chi è coinvolto chi è coinvolto direi la setta tenta di uccidere Alan Wake scopo della setta perché dice che è qua ancora fattibile si non c'ho non c'ho niente qua quindi no vabbè dov'è cavolo siamo sempre allo studio televisivo noi qua come stiamo messi mi sta facendo uno strano effetto fastidioso che ogni tanto fa dei prim neri no stiamo messi meno o peggio quando pensassi ora ha smesso chissà boh a che po 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 di da niente raggiunge laconico ma io qua che ci sto facendo anzi dobbiamo cercare ancora di capire come uscire da qui obiettivo esci dallo studio l'avevo intuito non si esce da qua lo so giusto capire se mi perdo cosa dietro le quinte siamo venuti 40 volte non c'è mai niente però metti caso che stavolta invece vabbè prendiamo l'uscita buona ah giusto it was all about me this performance the dark place was putting on but I had no control over it I knew how utterly lost I was Mi può chiamare a quest'ora di sera? Non mi può chiedere a chi sei. Tu ricordi? Oh, per me! Alan, 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 ascolti, ascolti. Mi chiedi, quanto ricordi? Hai visitato la torre del Parlamento? Hai trovato qualcosa lì? Si, Alice è in danger. Scratch è arrivato, e c'è un altro libro. Non l'initazione, l'arrivamento. L'arrivamento, l'arrivamento. L'arrivamento non mi ricordo. L'arrivamento non mi ricordo. L'arrivamento? Oh, questo è quello che stiamo dopo. La strada non lo può avere. La nostra attività, la attività del cosmo. La strada non mi ricordo. L'arrivamento 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 non mi ricordo. Con Giovannino qua. Il cacciavito universale di SAG. ma se fosse che c'pienta c'è che c'è I barrivati l'ho superato al punto E' qua nel vicolo ma posso andarci qua? No! Sì! Forse è il caso di appicciarla questa torcia. Qua? Qua è la porta chiusa? Lo cazzo sta sta porta? No! Piava! It was locked from the other side. Mirror pick bar. Questa non l'ho presa mi sa. Che mi hai dato? Aumenta il 5% della salute master. Mi sembra una buona scelta. Aumenta il 23% della quantità di salute master destinata dai rifugi. Se ci vuole la salute master quando scopri una nuova prova di potere. Questa avrei dovuto metterlo molto prima secondo me. A questo punto facciamo questa. Massimizziamo la salute. Banale ma... E' efficace. Qua è pure chiuso immagino. E invece no! No! Ah! E' quella porta questa! Ah ok! Ma se prendo la luce qua invece... Ah qui sto accendendo non sto spegnendo. Ah non c'era il coso altrimenti. Ma si si spiega. Invece così... C'è il vicolo. E io ho anche una luce in più nell'accrocchio qua ok. Vedo ne basta la pena venirci dai. Che poi abbiamo un sacco di salute in più. Però comunque... Cioè... E' la salute massima. Non è che mi ha curato eh. Non ha fatto neanche sforzi di vabbè. Ti cura un po' di quanto hai guadagnato no. Manca po' cacchio. Allora... Ehm... Continuo a fare questi strani flash neri fastidiosi. Ehm... 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 Non c'è una cippa onestamente tra noi e l'obiettivo. Almeno così a vista eh. Adesso moriamo nel tentativo di non combattere. Ehm... Ehm... Ok. Ok quindi non possiamo andare di là. Ci deve stare un ingresso... Secondario. Tipo... Ok. Non è l'ingresso principale. Pensò si entrasse dall'altro lato per qualche motivo. Momento Shining. Decisa vente. Momento Shining. Decisa vente. Momento Shining. Ma... 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 qui c'è la... qua c'è il muro di morte tipo, ok mi sembra l'unico ingresso comunque quello ma non mi dare che non mi dire cose che palle dammi un secondo che cazzo c'è una freccia qua l'avrei anche vista prima o poi se mi davi due minuti di tempo porca vacca che poi due stavanti secondo va ok cazzo 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 Poi qua ci sono già stato Qua non sono stato! Questa era chiusa Siamo di nuovo sui tetti E' l'unica è questa Nella mia partita mi sono perso l'entrata all'hotel con il lupo Perché girando sono finito subito nel vicolo E io c'ero andato nel vicolo un secondo fa Evidentemente non Non essendo entrato Forse nell'idento, era già aperto Non ci ho fatto caso, era aperta già A questa porta prima Per weren't Poi Sì, è una schwarzata così. Non sarete un po' tanti? E non capisco dove devo andare soprattutto. Eh, non mi ricordo più i tasti! C'ho avuto quei due secondi di capire com'è che si curava in sto gioco. Era inevitabile morire qua. Era proprio inevitabile. Non avrei mai ricordato in tempo. Non avrei mai ricordato in tempo. Sapendo quello che ci aspetta... ... 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 non era così difficile in teoria c'era una freccia gialla lì che si portava qua sopra non vedo altro però a parte queste robe gialle qua che dicono di andare lì e poi buonasera delta buonasera ben trovato la freccia andava qua sopra però non vedo niente qua provo a risalire ancora ah eccolo allora parole della lampada la torcia non è più così non c'abbiamo tutte ste ste batterie ok ora io qua potrei anche prendere la luce cioè accendere la luce però c'è anche una porta aperta è una scala che scende un sacco di straducole qua dove vado qua non mi pare sia cambiato niente ah ho preso una terza ho preso una terza luce ho capito solo cosa farci però qua che succede invece questa c'era già me la riprenderei ok fa apparire la cassa non mi lamento dov'è il canticchiatore che ansia è quello che non riesco a capire a che punto dovrei farlo non è che era sopra di qua non mi saque Sì Ma quanto lo vorrebbe fare un altro Max Payne Il buon Sam Lake La roba è proprio Max Payne tutta la vita Mannaggia Rockstar Ti posso aprire da qua? Ah ma devo andare qua? Questo è uno di quegli enigmi in cui devi capire come usare le luci Sono quelli che non capisco proprio io Però fa tutto sto giro per andare dove? Cioè io dovrei arrivare qua secondo me Cioè l'obiettivo mio è questo palesemente Da qui entriamo all'hotel no? Quindi io qua devo arrivare Oh è stata ricercata Giovanni Mettete qua lì In teoria A me non mi fanno danni Cioè non mi ha tolto niente Quando ti spingono Dobbiamo arrivare là no? No Dobbiamo arrivare là Ci deve essere un passaggio con le luci qua che non ho colto evidentemente Tipo se faccio così Non cambia niente Non posso scendere lo stesso Allora deve essere per forza una roba qua Eh vedi Quindi la luce prima della porta cambia dove va la porta Ok Chiedo scusa Stiamo finendo le pile però Non benissimo Ah Aspettami C'è una qualche spirale che mi sfugge La freccia va tipo qua Poi c'è sto coso che non si capisce Lo devo vedere da un'altra angolazione Anche perché io da quando vado Ha nessuna parte Devo per forza fare il giochino delle luci allora Vero? Eh questo non c'era altrimenti Ah siamo arrivati però Ok però questa Ah aspetta è così adesso In qualche modo si forma un simbolo Guardandolo dal lato giusto Forse Non mi è molto chiaro Dove essere E' altro di quei pannelli che devo rompere Quello no? Ah ma è questa che ho già preso Vabbè vaffanculo Ma qua mi fa entramo? Che è dove sto cercando di andare Sì Per forza Quindi qua invece che abbiamo Il bar sul tetto Beh non è un punto per salvare questo davvero Lec on the rocks Marathon Lec on the rocks 20 e 50 Shotgun Negroni Wolfe Shotgun 19 Devo 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 dedurre qualcosa Che Shotgun Non è solo il nome di un cocktail Ok Ah però non lo posso prendere Immagino che il problema sia che non c'ho spazio Merda Però è un bar questo Ci potete mettere un posto per salvare Mannaggia Quanti spazi prende? Quattro? Oh spero tre Ordino una bella bottiglia di Sangiovese Da consumarsi comodamente Su un tetto infestato da dem Perché proprio il Sangiovese? Ehm Allora E' proprio consumare questa E vediamo che te devo dire Ehm Non la posso usare? Davvero? Non più usare Se non sei ferito? Santa Polenta? Elimina Che te devo dire No Ancora no Gazzo Mammo chi ci torna qua Maledizione Uffa Le batterie Non le posso mettere dentro Al cosa No No E' qua Quando ci torno Vediamo se c'è modo Di salvare Nella Nell'albergo Magari mi fa salvare Qua dentro Che più che altro Mi da la cassa Più che fammi salvare Eh Io che cazzo Ne so Scusami Si 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 E' molto Supervaloro Rassona Eh Ok Ci deve essere Un codice Nel menu Allora Al di là Dello shot Eh Però sono Ah Non si può sapere Le con Shot Negroni Ocean View Cocktail Immagino Quindi 25 50 Potevo controllare Prima Vabbè Mi fa salvare Però il gioco Più prima Che poi Poi tutte le inondazioni Di sangue Le gemelle Inquietate Quello che vuoi tu In questo albergo Accetto Tutto Ma E' un E' un E' un E' un eone Che non mi fa salvare Devo andare a prendere Un pompa Io Guarda che inquietudine E' un Continua Niente Niente A buttare Qualc'altra Qualc'altra Cosa Capito Di Butto Il Bengala Che tanto Ne abbiamo Altri Capito Fammi controllare La mappa Mi è sfuggito Qualcosa Mappa Che non Abbiamo Quindi Come Come se Come se Se Firmate Segnate Adesso Adesso Faccio Sta cosa Butto Sta Trovo Lo shot E due Minuti Dopo Troviamo Un 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 Espansione Dell'inventario Mark My words Però è gigantesco Sto Cosa Un Pochino Troppo Figlio Mio Abbiamo Due Colpi In Tutto Abbiamo Otto Proietti Ok Adesso Possiamo Proseguire Metti Quanto Ti serve Un po' Di luce Tipo Adesso Vedo Ecco Io potevo Usare Le cure Che mi ha Fatto Sprecare No Stronzo Andato Tacci tua Uno Zeno Mi Tra 200 Litre Può Darsi Le Zeni Che Avevo Quando Stavo Negli Scout Zeno Che E' plausibile Pensare Che ci manchi Poco A salvare Sto Che non lo facciamo Da un po' Vediamo il filmino Che ci propone Il nostro misterioso Amico Il telefono Ah Ok Ovviamente Ci devo entrare Navoro Lavoro Estas È Sì. Sì. E questo è tu. Ok. Ok. Come porta con dignità sta parrucca orribile. Tu sei quello che mi ha chiamato. Certo. Sono Tom Zane. Benvenuti in casa Zane. Il poeta. Il diverso. Tu sembrava come me. Cioè, magari... Tu sembrava come me, tu bello. Il diverso era un personaggio che ho spaventato in uno dei miei filmi. Sono un filmatore. Un autore celebrato. Ne ho bisogno di rispondere. Perché è così importante? Cosa? Tu sempre ti fai lavorato così. C'è? Sì. Sì. Siamo in questo insieme. Due artisti collaborano, ricordi? Cattare le chiavi al nostro escapamento. Il tuo magnum opus è rinforzato. E il suo compagno è il mio film. Cattare le nostre visioni alteranti nostre vita. Un'istitore delle nostre idee. Cattare il nostro lavoro di arte. Qui, in questo room. 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 Un'altra parte. Poore delirio. Nell'hotel, come si chiama. I told you I'm a psycho I told you I'm a psycho I told you I'm a psycho I need the clicker It's return Because we return Ha 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 Ma, ma, ma Ma Ma, 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 ma I had to write my way to it È un pochino brutalizzato Con dovevo raggiungerlo, però, dai Non è facilissimo, capisco Rendere il senso di raggiungerlo scrivendo Devo scrivere La via che mi ci conduce, una cosa del genere Ok, non ho capito se questo Ah, è da lì il coso Devo farlo da fuori, ok È un pochino Rumore di essere Alan Wake Il scritto che si è morto L'ora di prima Il hotel era un luogo perfetto per la storia di Casey Mi ero sul passato I would start at the entrance lobby The entrance hall set the mood Where everyone had come in The victim The murderer The detective An idea Clear as a vision Waited for me here Oh 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 Ah, sì può. Ok. Eh, ci voleva, eh? Ce l'avete messo nel tempo. Adesso non si può aprire? Maledetto, bersaglio, sempre gli stessi numeri? No! E vedi quella la cazzim? Che non sono sempre gli stessi numeri, questi cazzo di fretta. Cioè, almeno così mi sembra. Allora. Devo posare qualcosa, però, perché veramente sto al limite con lo spazio. Ora fammi capire come funzionava sta giosta. Io facevo così e poi potevo mettere una roba del genere, no? Potevo cambiare scena, tipo. Ma me lo fa fare adesso? Erano in corsi preparativi per lo spettacolo teatrale. Lo faccio dopo, fammi vedere che c'è qua. Eh, minchia, c'è un sacco di roba. Vedi che ho fatto bene? Eh, che pazienza che ci vuole, eh, al mondo. Che pazienza che ci vuole. Infatti stavo usando la scena sbagliata, quindi magari era quello. Ma sto gioco non va d'accordo con OBS, è palese. Cioè, è proprio palese. È l'unico gioco che mi fa sti... Ah, ma c'è proprio... C'è poi impallato tutto qua. È crashato proprio il gioco, mi sa. Perché adesso non fa più una mazza, vedi? No, aspetta, ci siamo. Ok, no. Ti ho ripigliato. Ah, siamo proprio usciti qua. Ok. Allora, vedi che succede così? La fetta. Un'esperienza teatrale coinvolgente e indimenticabile. Ok. Siete tutti invitati al rituale, come si dice, pre-spettacolo, nella sala d'abba. Ok. Vediamo se è dura. C'è una roba lì che vuole lasciare indietro, davvero. Non ho cliccato su tutto. Ah, questo. Allora, com'è fatta sta mappa? C'è un sinistra e un destra che però si ricongiungono. Questi mi sa che sono stronzi sul serio. C'è un sinistro. Sì. Ah! 101 Ok ci manca la chiave qua Qua c'è il simbolo di una porta O almeno credo sia una porta non so Ah ma non si è mai interrotto il timer della live stranamente Ah giusto perché non ho cambiato mai Non ho spento il pc 104 non c'è sta chiave Questa c'ha due cerchi con un occhio Mo' ci torniamo Questa è aperta Chi è? Patarico addirittura Buonasera bella gente buonasera Non vi chiedo che state giocando Che probabilmente stavate guardando qualche film inqualificabile Ma ben trovati Ok queste sei batterie Il gioco sa Il gioco sa che non ne ho Bagno Con questa illuminazione giallo verdolino Vacanze d'Italia 2000 Ma insomma di giuro non so manco di Grazie film sia In realtà potrei averlo visto al cinema all'epoca 23 anni fa più o meno C'è stato un periodo in cui Con gli amici andavamo al cinema E E Potevamo vedere un Come dire Un Un film decente come una peggio porcata Anche a seconda di Di chi suggeriva Di Di come andava a finire Quindi ho visti un paio di quei film lì al cinema Non mi vedo fiero del periodo di Di quei film No Di assolutamente Però le serate al cinema Ci va pure per la compagnia E sti cazzi Non è che sta lì Non me ne penso Sposta questi oggetti di scena Alla stanza 225 Perché vengono usati poi Nella sala da ballo Ok Non mi far consumare batteria Niente Ma devi far consumare Capito La 104 è questa Io l'ho visto al cinema con gli amici Erano gli anni della serata Il cinema più pizza Esatto Una cosa del genere Tolta la birra a volontà Ma sì Magari andavi A mangiarti una cosa Poi al cinema Sì Sì Ormai al cinema ci vado Solo quando A capodanno sto da vita Fondamentalmente E guardo più film in quella settimana Che in tutto il resto dell'anno In genere Perché è sempre così In compagnia è tutto più facile Da solo Guardo i film però Faccio sempre quel po' di fatica in più A mettermi lì Adesso mi guardo un film Belli gli interni pure del teatro Ah E' un'altra safe room Io qua sembrano gli stessi numeri Però Vabbè Però erano tre le freccine dell'altro Noi siamo tutti d'accordo Di quello che abbiamo perso Una giornata A cercare di risolvere Un enigma Che non era un enigma Quanti giorni sto Eeeh Una settimana in media Possono essere sei giorni Possono essere cinque Possono essere otto Dipende da Da come sto col lavoro Da come si organizzano i milanese Non so Cerco sempre di rompere meno le scatole Di coordinarmi con loro No Per non Per non stare tra i piedi Troppo a vito Comunque per trovarsi un po' più comodi tutti Perché in genere E' tipo Dal 30 Poi c'è capodanno E poi fino alla befana In genere Ok Non ho capito Che cosa ho guadagnato Però Venendo qua dentro Come è fatta Sta stanza Scusa Vedo che c'è una cassa qui Che non è aperta Non benissimo Ah ma c'è un Che mi rappresenta Sta cosa Il cambio di scena Aspettate un attimo Ma com'è che io sono Sono entrato di qua E mo' sto qua però Mi sfugge Qualcosa Cioè il bagno Mi porta al primo piano Per qualche motivo Che non capisco Voglio andare a vedere Quella cassa Poi chiaro Dalla un vecchio Non pretendo Che abbia tutto senso Sia caro Per cercare di capire Se c'è però Un senso E' certo Però ti dirò No dirò sto cazzo E vabbè Il bengala rimane qua E vabbè Non era qua Buonasera Don Volpo Buonasera Ben trovato Ok il gioco Mi ha palesamente Detto prima Di seguire l'onda E non farmi Probande Quindi Ok Se non trovo più La stanza Non me le faccio Le domande Ah Sei vero Tu Da che liscio Dove cazzo Si è uscito Ha fatto una cazzata Da dove cazzo Sei uscito Tu E non si capisce La minchia Male E ricarica Oh figlio mio E quanto Ci ha messo Sono completamente Perso Non so dove sto I combattimenti Nei corridoi Non sono esattamente Il massimo Ne piglio Un'altra Di queste Tanto si usa Impasticchia Dove sono Finito Sono uscito Da lì E sono andato Da la stanza Di fronte Sì Ok Osserviamo Sta stanza Ci dovrebbe Sta una spirale Vediamo Devo Cambiare Scena Perché Sembrerebbe Indicare Che è lì Al centro Del tappeto Tipo Forse Devo Cambiare Scena Vediamo Se c'è Altro Nella stanza Vediamo Ok Non posso Fare niente Qua No Domani È la trama O sì Posso Cambiare Così No No Ok Quindi Non posso Cambiarla Questa E quindi Sta Spirale È Al piano Di sotto Perché Qua C'è Un'altra Che va Di qua Di freccia Quest'altra Va Di qua Ok Lui mi piaceva un sacco Mi piaceva un sacco O tra l'altro c'è youtube che mi aveva proposto una una sua intervista a un podcast di qualche anno fa e ho scoperto che l'attore ovviamente non che ci ha avuto comunque una storia complicata a parte di razzismo poi ha avuto problemi mentali, è stato persino internato per un periodo ok era l'unica soluzione dove sta la spirale spirale ok non la capisco sta cosa mi sta mandando qua ah eccola no l'attore che fa Thor quello l'abbiamo appena visto adesso non mi chiedete il nome però lui visto che mo ce l'abbiamo la doppietta ok e questa è fatta continuo a non capire se me ne sono persa un'altra però cioè sta questa freccia qua non capisco posso mica sparare al al tappeto però una dentro di qua l'altra va di là deve essere qua in mezzo a qualche parte però il soffitto non mi pare che ci siano spirali però non è che mi posso mettere a sparare i tappeti con quello che costano i proietti non posso manco tipo accendere le luci non posso fare niente vabbè per ora lasciamo sta ok salviamo ovviamente cazzi domande queste porte con i simbolini non si possono proprio aprire ma io non capisco questo piano è esattamente identico a quell'altro? beh sì capita con gli alberghi per carità però c'hanno gli stessi simboli no però c'hanno delle stanze diverse tipo questa 202 che è proprio sbarrata mi sono fatto perché sono studiato la sala da bal la sala da bal che è le back door qua che cosa cacchio è? non c'ho spazio ovviamente non c'ho spazio ovviamente non c'ho spazio ovviamente la sala da bal è questa qua? ok sì confermato che ti canticchi ciccio che stanza è questa? 209 allora queste col foglietto non disturbare non ti fa proprio provare ad aprirle tutto fatto che questi non modano munizioni però è un po' irritante lo possiamo dire allora prima di andare la sala da bal facciamoci quest'altro corridoio stiamo facendo il beer pong non so se si e abbia un nome italiano chiaramente stiamo tirando eh quante belle birre e pizza ovviamente pizza e birre un grande classico chiave da 200 euro vedi vedi ho fatto bene a venire qua e stanza confinivole questa ok andiamo a 209 mi stai mandando là allora io non ci vado vado prima di qua che qua c'è un'altra stanza vero? sì c'è la 219 che è addirittura aperta e sembra una sala magazzino quasi hanno messo un sacco di ah è giusto qua è dove hanno portato gli oggetti di scena era qua che diceva di portarlo ah no forse no ah è una stanza sicura qua non è una stanza per salvare è una stanza sicura posso prendere la luce la prendo quanti nemici mi toccano adesso per aver fatto sta cosa? dove cacchio sto adesso? certo ha tutto molto senso no allora aspetta torna indietro torniamo alla 209 prima mi esplode un po' la testa questo gioco ho fatto una strada lunga ho fatto mannaggia qua 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 è la stanza che mi portava direttamente la 209 ce n'era una era la era questa la 206 questa ok devo fare così oh finalmente un po' che non ci vediamo tizia qua come è una Sì, è stato relato a Sara Breaker? Si era il Sheriff of Bright Falls in 2010. Sì, è stato mio figlio. Ho un testo di polizia che ha fatto di Dore, basato sui miei sogni. Ho sentito e Sara riconosce la face di un case file di 80's. Ho riuscito fuori per vedere, e ho diventato il Sheriff dopo che si è venuto per la feds. Cosa è in il case file di Dore? Non c'è alcuni dettagli. Un uomo nazista Warland Dore si è venuto a Nero Caldron Lake. Ho riconosciuto che si è venuto con un coltello di litigio e si è venuto. Non ho trovato alcuni registri di un Warland Dore vivendo in città o in qualsiasi. Un altro finito. Quindi il Dore Fest è ancora una cosa? Oh, sì. Sì, è più grande di mai. Sì, ho scoperto qui proprio prima di fare. Funno, me anche. Che combinazione. Ce l'avevo già la mappa, vabbè. Non farti domande. C'è qualcosa di nuovo? Dore è scomparso nel 1988, non è invecchiato, longevità, non è umano, alieno, magico. Lo zio Frank ne avrebbe saputo di più, ma è morto. Non è il suo vero nome, significato nascosto. È una porta, è una porta che conduce in altri posti. Era l'obitorio, stavo per dare le prove all'FBI. Dore mi ha trasportato qui, in questa realtà onidica. Perché? Cos'è questo posto? Questo l'abbiamo già letta. Dore è il guardiano, dore cancello portale, esatto. Chi dove, perché, motivo, perché io. Questa roba qua l'abbiamo già letta. No, tutto questo già l'abbiamo letto. Ok. Bravo, bravo, vuoto e bene. No, questo invece non è può essere. Le robe cumulabili sono buone o uguali. Nel bagno abbiamo cose? No. Ok, mi pare di capire che devo andare dove stavo prima, lì. Fammi vedere cos'altro mi manca di sto posto. La stanza lampeggiante, ok. Ste scale da 202 è chiusa. Da la prove. Che però ci arriviamo per qualche motivo da questa stanza qua. Per qualche motivo che mi sfugge. Lì c'è un bengala da prendere, sti cazzi. Andiamo a salvare, allora. Le scale dove sarebbero, però, scusate. Qua. Sono chiuse. Sì. Qualcosa devo posare, se no. Già sapete. Mi serve uno zainetto nuovo, mannaggia. Allora, ma come ci arrivavo lì? Dritto, sinistra, poi a destra. Nella 219. No. Io siamo dall'altra parte della mappa. Ha tutto molto senso. Ha tutto molto senso. E ora questa si apre. Però, non ho capito se devo usarla qua. E mi sa di sì. Perchè no, però, scusa. Ah, invece che a teatro, in quel senso. Cioè, proprio nell'hotel, no? Ok. Ok. Allora, sicuramente un'attuale culte once performa un rituato non spiegato a summon... ... qualcosa in the ballroom. C'è stato un'altra cosa? C'è stato un'altra cosa? C'è stato un'altra parte del gioco, ma non era. C'è l'altro? Tu non vuoi chiedere a me chiedere a me chiedere, figlio. Un hotel hauntato, sì. È una trope per una razza. Poi devo andare alla sala a ballo però. Sala a ballo non abbiamo ancora provato ad andarci fino ad adesso. Pare di no. Qua succedono cose sicuro. Adibita al ristorante quando non ballano evidentemente. Qua di volevo che c'è un salvataggio. Chiave della stanza 101? Io torno alla stanza 101, non mi dite niente. Qua succederanno cose adesso. Sì, molto Verlucotel, ma l'atmosfera è più o meno quella. solo il problema è che non ho idea di come tornarci nella stanza 101, ve lo dico chiaramente. Ah, da qua, da questa. Giusto, sì. Mi fai ridere ciccio. dal bagno di questa. Sì. Per qualche motivo che mi sfugge. Voilà. tutto chiaro, no? Che usciti da qua devo andare semplicemente a destra, no? Sì. eccoci qua. Eccoci qua. Sì. Qua era il momento migliore per darmi uno zenetto extra, era proprio il momento ideale questo. Cioè proprio... non potevano esserci un momento migliore per darmelo adesso. sono pure munizioni per il pompa quelle, me ne so. Ah no, per il lanciarazzi che non uso mai. Ok, dovevo cominciare a usarla un po' la mia pistola lanciarazzi. Vabbè, è stato bello venirci, anche piuttosto utile. Ricordiamoci che c'è roba da recuperare qua e torniamo di là. iniziamoci. 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 C'era un punto interrogativo qua, non ho sbaglio. Sì. qua. iniziamoci. Ohhhh. Ma questo non l'avevo già preso io, scusate. Vedete tutte le risorse e punti di interesse vicini alla mappa di Wake? Eh, ma sapete già dove andremo a parare, vero? Ok. Ah, quindi non c'è gli zainetti lui. Lui lo devi fare da lì. Ok. Salviamo. Qui c'avevo abbastanza preso, eh. Sul fatto che sarebbe cambiato da lì a poco. E' giustamente diventato un teatro adesso. Devo mettermi la masca. Ma se metto presenze invece scusami. Eh, Dov'è l'altro lato da qua immagino? Quando dice metodo qualcosa intende il metodo Stanislavski però che metodo actor sono gli attori che usano il metodo Stanislavski Cioè non è il suo metodo almeno credo C'abbiamo un'altra trama qua Ah ok funzionano così sti qua Ah ok Non mi è molto chiaro qua sono 70 scene una sicuramente devo prendere la maschera credo E altre non mi è molto chiaro effettivamente Senti perdonami Ah non tengo neanche un bengale Ok non mi è molto chiaro che devo fare adesso che dice lui Segui le tracce del demonio Eh? It your max raggiungete gli obiettivi Non sono convinto che nel contesto teatrale possa significare altro Ok Cioè in questa stanza devo cambiare tutte le scene di continuo Strana come cosa Che io ho pure il diavolo ma lo devo usare sempre qua Ma Mi fido Proseguiamo Segui immagino Però un colpo di pompa brucia pelo e muore Se ti do spara comunque con due pallotte in testa Tanto vale che uso quelle Siamo d'accordo Sto seguendo la scia di sangue Ah però c'è da raccogliere le robe lasciate in sospesa a sto punto Tipo i due colpi per Per il coso qua Per lanciarazzi qua Dove che stavano Ah qua No Qua Non era questo che dicevo allora Questo è un bengale Ah erano dall'altra parte Tipo qua nella 201 C'è certo La fai facile la fai tu Giovannino La fai facile la fai Discheteca tombe è stata fatta Ma forse adesso si vede la spirale qua No Oh 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 Ok, giuro che non ho capito dove devo andare però... le tracce del demonio... non portavano qua le tracce, scusate... ma erano di qua... ma sto tornando indietro qua, scusate... dove cazzo devo andare? è arrivato qua? è qua dentro? ah quasi passava dall'altra parte vero? Ok, giusto... la sento... e allora a questo punto mi vado a prendere quella roba qua dentro... ho lasciato altro qua dentro? non mi pare... c'è un bengala qua... ma sti cazzi... ok... ho già carica questa qua... qua direi... o forse no... da dove son venuto? da qua dentro? sangue qua... massacro qua... poi... qua sembra una macchia di sangue lo stesso... quindi lui che è andata di qua... scena finale rituale pre spettacolo... che ci devo mettere? il diavolo pure qua? io ho un problema Houston... non ho più batterie... ho la pila completamente scarica... vabbè qui da dove son venuto però... no? no... ho fatto il giro di qua... qua c'è gente morta... devo continuare col diavolo immagino... devo continuare col diavolo immagino... con permesso... se va... abbiamo un problema senza batteria... alla faccia della... della difficoltà di... come si dice... dinamica che ti dai le risorse che ti servono... adesso abbiamo un disperato bisogno di una batteria... Silent Hill è diventata all'improvviso... ah... stiamo salendo al piano di sopra però... ho sentito la presenza di una nuova idea qui... un numero a casa... un numero a casa... non era... era divertente... in ogni modo... in quanto riguarda il direttore... l'attore non si è mai mingolato... con il resto del cast... si è venuto solo... per la giusta... e sempre in carattere... metodo... metodo Stanislasco... non esci dal personaggio... il cerchio mistico... e tutto il resto... il golfo mistico... che non c'ho la mappa di questo immagino... no... no... gioco ti prego... quando ho fatto così... prima si è glitchato tutto Giovanni qua... vediamo se mantiene adesso... palesemente è colpa del gioco... se si impalla OBS... ogni tanto fa qualcosa... che non dovrebbe fare... e muore tutto... però adesso pare abbia tenuto... voi urlate fortissimo in chat... se si rompe qualcosa... ok... non c'è manco una stanza... in cui possa entrare... fammi capire... guardate che non si capisce niente... con la mappa adesso... dico... una mappa salvabile... no... ok... una stanza salvabile... è palesemente che devo venire qua... c'è una leggera... appena accennata... indicazione... che questa era stata da seguire... un suggerimento velato... direi... un paio di cadaveri... giusto... giusto una mano di sangue... oh... mi piace per niente... la torcia non funziona più... una minchia... devo mettermi al centro... perchè mi devi far mettere... al centro della spirale... aspetta un attimo... vediamo se c'è qualcosa di qua... non si vede niente... ok... mettiamoci al centro qua... sono sicuro che non succederà niente... che era... che era... che era una stanza ridursale... capitale... del disco... seguito... con il mio scritto... a sottotitolo... il mio... era il suo trattamento... il mio... il mio... and all leading up to him meeting his news it turns out he knew her he'd only join the plea to get to her to murder her you again ok, se fasi di fuga trial and error non mi piace in nessun gioco questo non fa eccezione oh shit get away get away get the fuck away from me get the fuck away from me I had to leave my white man to hide where I go to my house I had to leave my white man ladies, ladies ha the dark presence had come for me drawn to the story I was writing as it grew darker the muse was the murder victim the final scene took place in room 108 108 è tipo qua in fondo no? si quella tutta sbarrata per cui abbiamo fatto tutto sto casino si io risalvo raga cap'è non sa paga l'ha lagato cambiato qualcosa di qua che ne so vabbè sti cazzi c'è gente sto ancora senza batterie tra l'altro beware the drowned lady non benissimo c'è il mostro dell'acqua come amnesia canale po'lan an si as 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 C'è del sentimento, quote, you and your friends will meet him when you are gone lost on the shore between the forest and the ocean. E' tutto diverso, è impossibile leggere tutto. Leggiamoci solo questo. Lost on the shore between the forest and the ocean. Quindi perduto sulla riva che separa la foresta dall'oceano. The owl and the deer reflected in motion in his room. He will, he will qualcosa. Heart hair. Quindi dice il gufo e il cervo riflessi in movimento nella sostanza lui le farà del male. In her she is... non capisco. In her... ah no, in hers he is caught. Catturato nella sua... non si sa bene cosa. La sua storia si conclude, la sua storia a maggio. La storia di lei... her story... lo so che se clicco va bene lo legge, però sapete com'è. Her story... n'è... n'è snot. Non capisco lì. Questo è il rituale che ti conduce... che ti fa proseguire. I tuoi amici lo incontreranno quando qualcuno si è andato. Non si capisce se dice tuo. Infatti eccolo qua. Ah di tu è in rima. Non è in rima questa, è in rima. Persi sulla riva tra il bosco e il mare sono andati. Il gufo e il cervo in movimento specchiati. erano in... erano in rima lì. Nella sua stanza lui la ferisce e in quella di lei perde la libertà. La storia di lui finisce e in quella di lei non termina qua. Ok? Questo è il rituale che fatti positivi, ti amici lo vedranno quando arriva la tua... ah la tua fine dicevo. Ok. Ok. E quindi? Ah la porta non si è aperta. Oh Dio. Signora. Con permesso eh. Closer to home oppure qua non son convinto che sia... letterare. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. Abbiamo finito? Con lui dico. C'è l'abbiamo già, Giccio. Ce l'ho già. C'è l'abbiamo già. Come due planete passando in orbit. Saga Anderson mi ha aiutato. Mi ha aiutato a andare più profondi. Più per l'escazione. C'è l'abbiamo. C'è l'abbiamo. Tore di Parlamento. Ho avuto tornare al mio appartamento. La mia studia. Ho avuto trovare il maniscritto di ritorno. Fine capito? Canzone? Canzone. Ma quanto ancora manca sto gioco? Perché c'è tutto un pezzo di mappa di SA che abbiamo visto adesso che... Ah questa già l'abbiamo sentita. L'abbiamo già sentita questa. I sottotitri li sono già sparati di nuovo. Sì è tipo in anticipo i sottotitri. non sono convinto che sia il stesso pezzo di canzone. E' un po' diversa. Credo se il testo sia un po' diverso oppure l'arrangiamento è un po' diverso. credo eh. Non sono pazzo no? Ma è un po' diverso. come se fosse la seconda parte della canzone insomma. si sta parte non c'è road 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 road. mi pare. pure sto uaua uaua non mi ricordo. è un po' diverso. è un po' diverso. Esci dal hotel. Ascoltate. L'ho preso dal sentimento. Ah ma c'è ancora gente però qua. a rompere i coglioni. è Alan Wake assolida ce lo dici. ok adesso poi. sta morendo di nuovo il gioco. quando fa così io mi preoccupo sempre che impazzisce tutto. vediamo. ancora no? a madonna qua è terribile per qualche motivo c'è qualcosa qua che lo manda proprio nel pallone. e a voglia l'ho fatta due o tre live fa di Alan Wake quella sì. grandissimo momento. tanto vi racconto una cosa carissima. io scommetto che tutti quelli che hanno visto quella scena o quasi tutti siano andati prima o poi su youtube a cercarsi qualche video di gente che vede quella scena e reagisce no? l'ho fatta anch'io. e e quindi mi sono trovato in questa in questa girandola di gente che rideva come dei bambini di fronte a quella sequenza no? che non spoilererò perché magari qualcuno in chat non sa di cosa sto parlando. e poi sapete com'è fatto l'algoritmo di youtube? quando tu vede che tu vai su una cosa di un certo tipo ti bombarda con video del genere è cominciato a proporre tutta una serie di video di reazioni solo che mi ha proposto video di reazioni a a cover di heart di come cavolo si chiama? di johnny... come cazzo si chiama? di lui insomma e il problema è che lì siamo passati da la giranda di gente che rideva come bambini al cash mi veniva johnny cage mi è venuto quello di mortal kombat al vortice di gente che piangeva distrutta annientata quindi nel giro di un'oretta ho visitato entrambe le come si dice i i picchi della condizione umana no? la gioia infantile e la disperazione più totale quel video è devastante però effettivamente devastante che è una cosa che si chiama? non è che non è non è non è che non è non è che comincia quella scena lì e che corre dritta senza fermarsi mai a vedere quello che succede una roba insopportabile per fortuna non è così per la maggior parte delle persone hanno reagito come come tutti cioè con la gioia nel cuore tanto al TGA mi sa che abbiamo l'esibizione a tema eh dite che l'esibizione è confermata lo so tecnicamente non hanno detto che esibizione sia ma oggettivamente cos'altro potrebbero fare quindi mi aspetto il balletto che alternativa potrebbe esserci scusatemi poi non so io lo gioco non l'ho finito non mi dite niente magari c'è un'altra canzone un altro momento musicale figo quindi non dite cose e quindi magari posso fare un medley che ne so però se non vedo Sam Lake che balla come uno stupido sul palco non sono contento eh potrebbe essere l'unica cosa che mi spinge a fare le quattro di mattina dopo domani quando è qui buonasera Luis buonasera buonasera io lo so che probabilmente lo farò la cazzata di stare sveglio vediamo non c'ho manco quell'aggancio che magari dovevo stare che ne so a commentare con Vincenzo quindi quello già è uno sprone in meno però potrei farlo la cazzata non mi ha fatto lo spiegato mi ricordavo che c'era sta cosa della macchina fotografica della moglie che fa le foto a tradimento quando torni a casa per cui non me l'aspettavo e siamo tornati a casa c'è una camera oscura le robe oscure qua dentro non portano a me benissimo no such things as the as too personal the photos on me ok le mie foto just red you need to show a eeeh non si capisce make you see what's beneath the surface glimpse forse devo solo mostrartene come dire un'occhiatina un'immagine fuggibile per farti vedere cosa si nasconde sotto la superficie dobbiamo sviluppare foto? no non posso fare niente non ancora se dobbiamo farlo non abbiamo ancora le foto da sviluppare eeeh non era così buio un secondo fa o si? si avevo la torcia accesa però the dark place I needed to get inside the manuscript l'esperienza interattiva questa è lei giusto? si tv con rilevamento dei movimenti ok questi che so i poster arrotolati oh barry hai visto che casino hanno fatto ieri l'oxer game? vabbè che casino gli hanno liccato il video ma ormai ormai gli liccano le cose di continuo vabbè l'abbiamo visto un po' prima ahimè a hollywood mi sento un pesce fuor d'acqua ancor più di quanto non fossi nelle foreste del nord ove specifico ma qualcuno che ha giocato a long week mi ricorda che fine ha fatto barry come l'abbiamo lasciato? come ci siamo lasciati con barry? è vivo è morto ah ma il buonasera di kuma era che è arrivato adesso non era un saluto a a luis di prima mi son perso l'arrivo di kuma in quel caso buonasera scusami ero un attimo preso questi yuppi con i denti che brillano al buio sono la cosa più infitta che abbia mai visto tutto bello sempre quando in realtà è esattamente il contrario più di una volta mi son sentito disgustato durante le riunioni con questi stronzi dirigenti cinematografici ma devo stare qui per proteggere l'eredità di Al Alan voglio tutti fagocitare i diritti per i film sui libri di Casey ho un'idea assurda su come gestirli è mio dovere guidare quei assurdi di zombie abbronzati verso una direzione che abbia un minimo di buon gusto so bene quanto Alan avrebbe odiato gli adattamenti che stravolgono la sua visione ero un maestro nell'odiare profondamente le cose ero un maestro nell'odiare e avevo ottimi motivi è per questo che lo amavamo così tanto no? comunque ora devo partecipare a un'altra videochiamata per discutere del casting ciao che gestisce questo posto Chester riesce a fare miracoli e uno opposto non è pazzo penserai che stia dicendo stronzate ma ho perso molto peso non mi riconosceresti Chester dice che sono stato fortunato a finire qui se fossi rimasto a New York mi sarebbe successo qualcosa di brutto io gli credo dopo tutto quello che è successo non mi sentivo benissimo specialmente dopo che quegli stramboidi dell'FBC attenzione avevano detto di parlare con me basterebbe per trasformare chiunque in un complottista spero che tu sia bene passa pure a trovarmi quando vuoi perché la costa ovest non è così brutta come l'avevo fatto a sembrare nelle mie email precedenti il tuo amico Barry vabbè sì ma chiaramente l'hanno fatto per cattiveria dai mostrare e tenere poche ore prima del rilascio vabbè che perché dovevano farlo per bontà è normale che lo fanno per un intento poco amichevole solo che lo licchi a fare scusami se vuoi essere amichevole non te lo tieni se ce l'hai è chiaro che che per fare danno no? ma Rockstar non è la prima volta che gli liccano cose vai a capire perché ti dice in giro che sia piena di dipendenti arrabbiati per le condizioni di lavoro e quindi magari c'è qualcuno che c'è il dente avvelenato gli fa lo scherzetto non lo so però però sono voci quindi va a lasciare il tempo che trovi è schifo perché da un po' che non ci sentiamo tutto a posto lì io sono rimasto intrappolato in una serie di riunioni senza sosta devo dirlo ho pensato di pisciare in una tazza del diavolo il cibo pisciare in una tazza del diavolo il cibo? non mi spiego come questa gente riesca a fare i film se l'unica cosa che fa è partecipare a riunioni tutto il giorno vuol dire pisciare in una tazza del diavolo vabbè sono circondato da squale adesso della storia di Hal voglio trarre un film una serie tv oppure e questa è la cosa più assurda un cazzo di videogioco io ho detto di andare a fanculo inoltre in caso lo venissi a sapere da qualcun altro Tammy Booker un'attrice di True Crime sta lavorando a un libro su Hal ho detto un'autrice scusatemi ho detto al suo editore che sporgeremo denuncia tranquilla ci penso io e il tuo amico Barry tutto bene a casa? scrivo solo per sapere come stai ho provato a chiamarti ma non hai risposto probabilmente sarai immersa nel tuo processo creativo conosco bene il comportamento di voi artisti quando siete nel bel mezzo dei vostri progetti tutto il resto scompare se mi richiami non rispondo è perché sto facendo quello che dovrebbe fare un produttore esecutivo che per me è ancora un mistero vabbè se ti serve il mio ammiuto per qualsiasi cosa relativa alla mostra conta puloso di me eh vabbè l'amichevole berri di quartier ah nel senso di beh ma non credo non credo che fosse quello il set come in inglese avremmo dovuto vedere aia ok non ti viene a trovare che ti intendo a dire che mi chiede come sto se sei trasferito viene qua a posto per chiederti come stai e si riferiva alle email immagino devo mostrarti la verità on all su tutti gli schermi più buio meglio è più buio è meglio è sento puzza di enigma anche questa è la stessa che stava di là questa è l'originale quella era la fotocopia che questa è scritta anche in verde invece quella era tutta in nera una cosa è lo stress lavorativo è una cosa è crunch lunghissimi che ti ammazzano la salute un giorno un giorno ho visto un uomo soare pasto la finestra il suo pallone di un uomo cartone di un uomo cartone e ho guardato la strada sotto e ho visto una piccola chiede come stai perdendo il suo pallone ha finito il suo mondo Fu che bravi tutti gli attori che hanno preso per questo gioco, parte 2, il ritorno. La vulnerabilità è chiarezza, è comprensione, la chiarezza in senso mentale, diciamo. Ok, stai facendo una bloober team un po' qui, senza offesa. La scuola che ho fotografato e filmato, la più che ho sentito che ero sul percorso di una scuola. La scuola che ho messo in me, la scuola che ho messo in me, la scuola che ho messo in me, la scuola che ho messo in me. La scuola che ho messo in me, la scuola che ho messo in me. La scuola che ho perso in me, la scuola che sceglie tra le scuola che ho messo in me, la scuola che sono entrate. Il medo dell'amore è proprio il medo di quello che potrebbe essere, quella vaste, paralyzante l'oceano. Ma la fotografia può frizzare la realtà in una foto, mettere una caccia all'infinite e capirelo. Ho bisogno di provare che questa situazione non è veramente là. Collegamento, poi dolore, dolore poi amore, nessun confine, si spietato o spietata. Quanto dobbiamo ancora entrare? Quarta parte della realizzazione. Lo scopo è una parte terza, scusatemi ma sono persa. Qua la parte terza, la ricerca, la chiarezza e uno scopo. Mi mamma ha scritto. Lo scopo è questo. Riturnal. 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 Riturn bling bling sto lasciando ciò mi hanno fatto un poco ridere una parte della comunità italiana di eldenring perché aspettavano qualche informazione supplementare o che addirittura mostrassero un nuovo trader ok ma hanno capito che sicuramente ci vorranno altri 5-6 mesi per rire non posso dire niente non riesco a capire si hanno usato il futuro no no è un video veare questo sono attori però ho letto le dichiarazioni che poi non so dichiarazione cioè ha detto ci stiamo lavorando ci vuole ancora un po di tempo vorrei salvare staccare però ci abbiamo qua parole di potere ah ok non ne abbiamo ok ma che cosa fa? devo uscire dalla porta? devo sedere devo scrivere immagino ok scriviamo Zane ha detto che abbiamo lavorato sui risultati insieme è stata una scuola una scuola risposta risposta io pagare Zane un'altra visita mi ha guidato a due siti di scuola ho bisogno di una nuova per tornare a la Torre di Torre una nuova scuola di initiazione ok torniamo sempre qua se no che siamo tutti bagnati adesso maschere ok allora io qua non ci voglio entrare perché mi aspetto che succedano cose salviamo la prossima volta che poi sarà domani domani è mercoledì 6 non è domani notte giusto il TGA è dopo domani notte è tra il 7 e l'8 ve lo confermate? domani ci facciamo un altro po' di gioco alla fine degli anni pazzia sono fatte tre ore pure stasera è lungo questo gioco però finché mi sto divertendo e mi sto divertendo va benissimo